E' stato arrestato dalla DIA di Palermo Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cosa Nostra Gaetano. L'arresto è avvenuto a casa della madre a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ed eseguito in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria di San Paolo in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. In attesa dell'estradiazione, Badalamenti è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo. L'uomo, 60 anni, è il secondo genito di Dontano, il boss che negli anni 70 è stato a capo della cupola di Cosa Nostra e poi riconosciuto come mandante dell'omicidio di Peppino Impastato. Per l'autorità brasiliana, Leonardo, che andava in giro con identità falsa, quella dell'uomo d'affari brasiliano Carlos Massetti e che aveva registrato in quel paese la nascita del suo primo figlio, chiamandolo come il nonno Gaetano, era latitante dal 2017. In Brasile, tra l'altro, era già stato arrestato nel 2009. Leonardo Badalamenti in questi giorni era stato denunciato dai carabinieri per essersi nuovamente impossessato di un casolare incontrato da Uliveto a Cinisi che gli era stato sequestrato. Il figlio del boss aveva infatti ottenuto dai giudici della Corte di Assise la restituzione del bene, finito per errore nel decreto di confisca. Senza attendere la notifica del provvedimento, Badalamenti Junior ha rotto il catenaccio per tornare nuovamente in possesso dell'immobile. Ne è nato uno scontro violentissimo con il sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, tanto che sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fatto sloggiare e lo hanno denunciato. Il signor Badalamenti, ha detto il primo cittadino di Cinisi, ha attuato un comportamento grave e inaccettabile. Non siamo disposti a tollerare simili atteggiamenti da nessuno, figuriamoci dal figlio di un boss. Riteniamo che a prescindere dal contenzioso, il signor Badalamenti non riavrà mai più il suo bene, perché esiste una legge che ci consente di trattenerlo al patrimonio di Cinisi e dei suoi cittadini. Una legge chiara che intendiamo applicare. Il casolare non è casa sua, ma dei ragazzi della nostra comunità. Anzi, sin d'ora mi adopererò affinché alcuni spazi siano assegnati a casa memoria, la casa natale di Peppino Impastato.